L'attrice siciliana Miriam Leone è meravigliosa nell'ultimo post di Instagram pubblicato direttamente sul suo profilo ufficiale. L'attrice Miriam Leone lascia bocca aperta a tutti i fans pubblicando una foto dalla sua Sicilia in cui compare in un sensualissimo primo piano. L'interprete è una delle più apprezzate artiste del panorama dello spettacolo italiano. Da quando vinse il titolo di Miss Italia nel 2008, la sua carriera è letteralmente decollata. Da presentatrice ha rincorso il suo sogno da attrice, arrivando a recitare in famose fiction e celebri pellicole. A fine anno uscirà il film diretto dai manetti bros, Diabolic, in cui sarà una affascinante Eva Kant accanto a Luca Marinelli e Valerio Mastandrea. Il suo talento è innato e Miriam riesce ad emozionare sempre il pubblico con la sua arte recitativa. La sua bellezza, inoltre, è assolutamente un valore aggiunto che la rende molto telegenica. L'attrice è molto seguita anche sui social. Su Instagram il suo profilo vanta 1,3 milioni di followers. Miriam è solita condividere con loro sul social alcuni scatti in cui compare in tutto il suo splendore. Non fa eccezione l'ultima foto pubblicata nella quale è ritratta al sole nella sua Sicilia. When in Sicily, no makeup, no filter, love yourself cuore che luccica limone freedom. Con queste parole l'interprete originaria di Catania introduce il suo ultimo post Instagram. Ossia un selfie nel quale l'elemento che viene posto maggiormente in risalto è il suo decolleté esplosivo. La foto in pochissimo tempo ha già fatto il pieno di mi piace, ed i commenti in cui si sottolinea la straordinaria bellezza di Miriam. Grazie a tutti. Grazie a tutti.